Approfondimento di oggi, sì, lo vogliamo dedicare, dopo aver visto le notizie principali della giornata dall'Italia e dal mondo, al mondo, gioco di parole inevitabile, degli autobus turistici. Ne abbiamo parlato anche ieri durante uno TG perché c'è una situazione di grande difficoltà per questo settore. Lo vogliamo fare con Walter Fabri, presidente di Confartigianato Bus Operator Toscana. Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Parlo volentieri di un argomento che fa parte della mia vita. Come tutti sanno, il Covid è stata la situazione di rompente che ha in pratica prima fermato del tutto, poi cercato di ripartire a strappi il nostro settore, che comunque tuttora non è stata una ripartenza automatica come altre attività. Noi ancora scontiamo una serie di problematiche che sono la mancanza di un turismo ancora di molti stati esteri, la mancanza in Italia ancora di un turismo che è ripartito, ma è ripartito abbastanza a macchia di leopardo, la mancanza anche di una disponibilità economica da parte dei nostri utenti, che chiaramente la situazione economica, l'impoverimento generale, l'aumento dei costi dovuto a una serie di problematiche, non ultimo l'aumento dei combustibili, energie, alberghi, eccetera, hanno di fatto rallentato questo tipo di attività e hanno limitato fortemente questo tipo di attività. Eh sì, perché parliamo appunto di autobus turistici, cioè di tutto quel mondo delle gite, chiamiamole così, o comunque di un noleggio con conducente, quindi una sorta di servizio che fin dalla nascita conosciamo, perché in realtà andavano molto negli anni 80, 90, anche 2000, le gite non solo scolastiche, ma anche quelle per, diciamo così, tutte le persone. E proprio questo è anche un altro punto su cui voi avete dibattuto in queste ultime ore, cioè la minore attitudine a viaggiare con gli autobus e la maggiore attitudine di viaggiare per le persone con la propria auto, forse anche figlia di quella situazione pandemica. Diciamo, è stato sicuramente anche questo evento qui, infatti la pandemia ha comunque di fatto cercato di evitare o comunque è limitato l'aggregazione delle persone. È chiaro che un autobus è un viaggio dove ti aggreghi, sia all'interno di un veicolo, anche se igienizzato, areggiato, ma comunque ha delle problematiche. L'altra problematica è stata che con questa teoria, con questa paura, diciamo, di questi eventuali contagi, molte organizzazioni hanno smesso di fare proprio il loro lavoro, di organizzare questo tipo di viaggi. Non ultimo le grosse compagnie anche sociali, gli Hauser, le ASL, la COP per dirne una, proprio per cercare di evitare queste aggregazioni e quindi questi eventuali pericoli. Poi quello che è stato veramente un calo, e che è un calo, come dicevo prima, è la mancanza di disponibilità economica. Ed anche forse da una parte il cambio di mentalità, nel senso, il turismo in autobus, al di là di o sono le scuole o erano i gruppi anziani o gli stranieri che facevano, specialmente in Toscana, a Tordia Toscana, eccetera. Il grosso di questo lavoro degli stranieri erano molto cinesi, giapponesi, coreani, che sono di fatto fermi. Gli inglesi sono ripartiti, ma molto meno, perché anche l'Inghilterra stanno scontando una situazione economica negativa. E quindi quello che si è mosso, quest'anno è stato un boom in Toscana di tantissimo turismo, ma è stato un turismo più individuale, più autogestito, un turismo di prossimità. Molti italiani sono rimasti in Italia, sono venuti molti tedeschi, francesi, ma tutti si sono mossi al 90% con mesi propri. Quindi il nostro settore che appunto sconta il fatto di essere aggregante, sta scontando ancora questo retaggio di difficoltà, perché tutto sommato il Covid ancora non è, è sempre una cosa di cui se ne parla tutti i giorni e che ancora a molta gente fa paura. E questo è un po' sommato appunto alle situazioni economiche, al calo di disponibilità finanziaria, all'aumento delle tariffe. Sono tutti fattori che hanno portato all'impoverimento di molto ridotto il nostro servizio, la quantità del nostro servizio e il volume dei nostri affari, che sono comunque ad oggi sicuramente al 50% di quello che era 2019. La Toscana a quanti aziende, in questo caso ovviamente private, a quanti addetti, ovviamente dobbiamo parlare di fare una stima di quella che è l'incidenza anche del paniere, del PIL toscano di questo settore, ovviamente sia diretto ma anche indiretto, perché io penso, mi viene in mente banalmente da ignorante del settore, ovviamente però mi viene in mente anche l'autofficine, la manutenzione, tutto quello che ruota attorno alla manutenzione di un mezzo, come un autobus che immaginiamo non ha un costo così piccolo e la manutenzione sarà, immaginiamo, importante. No, no, considerando anche che nel nostro settore c'è appunto l'NCC, quindi l'Oleggio con conducente, fa parte di Scuolabus, fa parte dell'Oleggio, parliamo sicuramente di centinaia di aziende e di migliaia di addetti, che è tutto chiaro, come diceva, la manutenzione viene fatta ogni totte chilometri, se viaggiamo meno, comunque ritardiamo la manutenzione, non è che non la facciamo, la facciamo a momenti opportuni, ma se facevamo 10 mila chilometri al mese e ora ne facciamo 4 mila, ovviamente la manutenzione viene ritardata al 50%, e tutto è un indotto, tutto l'indotto che sta, diciamo, scontando questa problematica, questo tipo di situazione. Ovviamente dalle officine, dai ristoranti, da tutto un settore che girava intorno a gomme, batterie, che ricaricava l'aria condizionata, è tutto un settore in sofferenza, perché questo chiaramente sta riducendo quelli che sono i volumi di impiego e riduce i volumi di manutenzione. Si parla di gite, si parla di tour, si parla di possibilità di portare tante persone ovviamente in giro. C'è qualche possibilità di diversificare questo lavoro, cioè di reinventarsi? Si può fare qualcos'altro? Oppure è un settore che, diciamo, è dedito appunto alle gite, al trasporto di persone verso luoghi di villeggiatura e poco altro? Diciamo, quello che ci ha salvato francamente fino ad oggi, che però ci ha permesso di sopravvivere, non dico di vivere, è una parola grossa, è stato, ad esempio, da settembre 2021 all'estate 2022 i servizi integrativi che molte aziende di bus hanno svolto per conto della Toscana in supporto alle linee di trasporto pubblico locale, perché essendoci un problema di riduzione, diciamo delle affluenze su bus, di avere meno persone a bordo, abbiamo avuto questa opportunità, non è stata una manna dal cielo, però è stato un aiuto che ci ha permesso di arrivare a giugno, abbiamo superato l'inverno, che è stato una grossa boccata di ossigeno. Ora abbiamo passato l'estate, appunto lavorando, ma lavorando molto ridotto, ora la paura è il prossimo inverno, che all'orizzonte non ci sono prospettive, diciamo da un punto di vista integrativi, servizi eccetera, il turismo sta ripartendo con moltissima fatica, con molta fatica. Quello che potrebbe essere un'opportunità che ci stiamo domandando, come confartigianato, ma anche insieme a CNA abbiamo fatto incontri, che al prossimo inverno dovrebbe partire una sorta di nuovo appalto per servizi, si chiamano T2, cioè un lotto minimo dei servizi di TPL in Toscana, che ad oggi sono stati assegnati a Autodine Toscana e che questi servizi minimi, che ancora non abbiamo ben capito purtroppo, nonostante abbiamo una richiesta, abbiamo fatto una richiesta di incontro in regione, di capire esattamente in cosa vorrà consistere, quali saranno i volumi di questi servizi, quali saranno le opportunità in cui le aziende di noleggio, potranno inserirsi in questo servizio. Tra l'altro lei ha tirato fuori un altro argomento fondamentale, molte delle aziende del vostro settore, anche la sua, perché lei è storico titolare di un'azienda del Val D'Arno di trasporti, erano molto dediti al trasporto pubblico locale, c'era una grande rete di tante aziende private che poi ovviamente facevano un servizio pubblico, con Autolinea Toscana e dunque con il TPL e la gara unica, alcune di queste aziende sono state, diciamo così, tra virgolette fatte fuori da questo trasporto pubblico locale, ovviamente è mancata questa fetta, è difficile poi riprendere il business di prima. Questa possibilità quindi che si apre di fatto dovrebbe andare a coprire una lacuna di Autolinea Toscana che non riesce a prendere tutte le zone, anche quelle più piccole? Ma diciamo, oggettivamente Autolinea Toscana e per una parte delle aziende che erano già affidate, ha riaffidato l'esercizio di alcuni servizi TPL, li ha affidati direttamente agli ex che erano concessionari e ha continuato ad affidarli a quelli che praticamente lavoravano in subappalto. Il problema di questi subaffidamenti, diciamo, sono ovviamente un prezzo ridotto rispetto a quello che era il prezzo quando eravamo, diciamo, concessionari diretti, il prezzo ridotto non stiamo riscontando, diciamo, il subappatto specialmente sconta delle cifre che sono proprio la sopravvivenza, però tutto fa in funzione di cercare di sopravvivere, speravamo tutti di arrivare a una stagione, a un cambio di marcia, magari inventarsi di più su un settore più che un altro. Ora questa prospettiva del T2 ci sta dando una prospettiva ideale e vedremo, ancora non abbiamo ben capito, come potremo inserirci se come aziende fare un consorzio, fare un'azienda toscana, ci stiamo raggruppando, già a provincia di Arezzo esiste un consorzio CTP che esercita in sub concessione alcuni servizi per l'autorina toscana e anche se a prezzi comunque vincolati e contrattualizzati a novembre allo scorso con il prezzo del gasolio che è rimasto invariato, rimarrà invariato fino almeno a novembre prossimo, quindi le problematiche sono tante, è chiaro che siamo tutte aziende che stiamo cercando di sopravvivere, abbiamo capitali, investimenti, storia e nessuna intenzione di mollare, però le prospettive, l'agonia è lunga, speriamo che non sia come dicevano una volta i nostri anziani una morte certa, perché l'agonia per ora è lunga. Quando si parla di autobus, di trasporto ovviamente si pensa anche ai luoghi piccoli o comunque i piccoli paesi, mi viene in mente nel Valdarno ci sono tanti piccoli paesi, anche di montagna, anche per esempio andando a loro ciuffena, sopra loro ciuffena sono tanti piccoli luoghi difficili da raggiungere, questo T2, questa possibilità che si è aperta può andare di fatto a scardinare tra virgolette una gara unica, perché se tutto il trasporto sarà gestito da Autoline Toscana è anche vero che questa possibilità che si apre, se così sarà, darà la possibilità di creare un nuovo soggetto che gestisce piccole tratte, quindi di fatto questa gara unica non ce l'ha fatta a riprendersi tutto il territorio, anche le piccole zone come un tempo? Ma diciamo, quello che era esistente è rimasto fondamentalmente, non è che è stato variato. Quindi è un potenziamento? È un potenziamento, anche perché queste grosse aziende stanno, perché dicevo prima abbiamo chiesto incontri in regione per avere contezza esatta di cosa prevede questo piano, che non sappiamo a spanne il valore dei chilometri, ma è chiaro che un mezzo se fa 50 km al giorno o lo stesso mezzo ne fa 250, i costi di gestione sono completamente diversi, quindi ancora non siamo riusciti a capire come sarà effettivamente questa ripartizione, perché sì, giustamente la montagna, in altre regioni si sono inventati i servizi, magari non sono più di linea, sono a chiamata, hanno messo mezzi diversi, anche per valorizzare un territorio montano e noi da qui parliamo di mantenere i territori quando poi togli i servizi e è finita. È chiaro che le grosse aziende, a interesse a fare il fondo valle del Valdarno è coperto, è sempre stato coperto, rimarrà coperto perché ha un'utenza. Quello che rischia è che manchi i propri collegamenti con le montagne, con le parti, la zona di Stianti, mi viene in mente Montegonsi, mi viene in mente l'oro, c'è assai, sono paesi che se non viene creato un sistema di servizio, può essere anche un servizio migliorato, tipo servizio a chiamata, più finalizzato, più mirato, però noi aziende ad oggi abbiamo in testo un incontro di regione perché siamo obiettivi. Questo progetto di 2 lo sta realizzando la regione con il supporto di la turismo toscana, quindi ancora non abbiamo ben capito cosa lasceranno nel bando, perché è chiaro che se lasciano le linee produttive, ti lasciano la marginalità, è chiaro che se fai una linea, faccio un esempio, Montegonsi di Monteverchi la può fare 5 volte al giorno, comunque fai 50 km, non ha un senso di renditività imprenditoriale. Anche perché magari può essere gestita anch'essa da autolinei toscane, perché essendo il gestore unico credo che possa, sono tutte supposizioni, magari la regione potrebbe essere ovviamente più esaustiva in questo, potrebbe decidere, a valersi del diritto, di gestire quella tratta magari anche con altre aziende. Il discorso è infatti molto rischioso in questa operazione, perché vorremmo cercare di capire, perché quello che è ventilato, il costo a chilometro, quindi il costo a chilometro è molto limitativo, perché la regione toscana metterà a bando, almeno le notizie a ora, è veramente fuori prezzo, sono dei prezzi assurdi e il rischio è che la regione toscana magari abbia, come ha l'obbligo di servizio, non è che può tagliare i servizi, in obbligo e il servizio magari verrà remunerato in una maniera diversa da come sarebbe in un appalto, diciamo, in forma secondaria o in diretta. Quindi questi sono gli aspetti che ancora tuttora, insieme a CNA, abbiamo gestito incontro, abbiamo fatto riunioni, stavo cercando di coordinare rete di imprese, ma non abbiamo contezza esatta di quello che sarà la realtà. La programmazione è difficile, perché dopo organizzare mezzi, persone, capire se varrà la pena fare questa organizzazione, rispetto a quali saranno le risorse, quali sarà il volume che riuscirai a fare per giorno, per mezzo, per autista, per turno macchina, sono cose che dovremo valutare. Ad oggi è tutto molto nebuloso. Restiamo sull'argomento, ma cambiamo un po' sponda. Infatti in queste ore, tra l'altro abbiamo non moltissimo tempo, è stata ufficializzata la possibilità, anzi in pratica la certezza che dal 2025 più o meno, per esempio la Firenze-Pisa-Livorno, la FIPILI, sarà a pagamento per i mezzi pesanti. Ovviamente ci sono anche gli autobus che saranno attenzionati. Voi che fate del viaggio il vostro lavoro, voi come ovviamente i TIR ancora di più giornalmente, secondo voi è giusto pagare una piccola tratta, o comunque una tratta che si fa da sempre gratuitamente, magari avendo più manutenzione. Era un po' l'alternativa alla A11. Diciamo che è tutto un gatto che si morde la coda, nel senso, ad oggi ovviamente scontiamo il gratuito, ma scontiamo oggi, ad esempio proprio oggi, blocchi di ore per interruzioni sulla FIPILI, vale per il trasporto persone, vale per il trasporto merci, quindi un mezzo che rimane fermo un'ora, specialmente oggi con i problemi delle ore di guida, dei turni, rischia di far saltare tutta una programmazione. È chiaro che è tutto relativo, se aumenta un pedaggio e ben venga un miglior scorrimento del servizio, ovviamente se aumentano i costi, aumentano le tariffe, questo tipo di economia è in grado di reggere un aumento di tariffe ancora di più, perché se no si rischia di valorizzare un aspetto, ma penalizzarne altri dieci che sono dietro. Tra l'altro ci sono anche delle voci, anzi concrete, con comunicati di paventati scioperi da parte degli autotrasportatori. Voi come confartigianato bus operator potreste pensare di fare uno sciopero su questo e magari anche su altre tematiche, abbiamo parlato, i carocarburanti e tanto altro. Diciamo al di là dello sciopero che in certe situazioni, specialmente nel nostro tipo di settore, danneggiamo gli utenti, perché fondamentalmente non è che danneggiamo l'economia, danneggiamo quello che sono a bordo, potrebbe essere anche quella un estrema razio di protesta, preferiremmo cercare di arrivare a una possibilità di concertazione, di capire, di aggiustare, di mediare su quelle senza arrivare all'estremo razio di uno sciopero che comunque crea un problema agli utenti e direttamente crea un problema dopo a chi è fermo perché non fa economia. In un momento già di difficoltà dove siamo al limite del reggere, non è che abbiamo tanto margini per poter investire risorse in attesa che poi di migliorare. Quindi è tutta una situazione in divenire. Io personalmente, come in carattere, credo anche lo spirito specialmente dei piccoli associati che rappresento, siamo tutti abituati a mediare, a parlare, a cercare una soluzione possibilmente indolore. Poi ovviamente... Vedremo insomma, vedremo anche perché Toscana Strade è una società che nasce di fatto quest'anno, nascerà quest'anno, ci saranno gestite alcune strade regionali, ovviamente le più importanti, alcune di queste chissà potrebbero diventare a pagamento, vedremo. Ovviamente c'è anche Anas che già gestisce alcune strade, si aggiungerebbe, anzi si aggiunge un nuovo gestore, quindi è tutto un qualcosa di nuovo e sicuramente gli autotrasportatori sono coloro più attenzionati da questa novità. Io vorrei concludere però con lei, visto che è storico, titolare di un'azienda di trasporto locale nel Val d'Arno, da quanti anni? Sì, primi del Novecento, diciamo, una concessione di trasporto postale con il cavallo. Davvero storica, addirittura col cavallo, quindi siamo veramente alle albori del trasporto. Vorrei concludere dicendo, dopo tanti anni si continua a lavorare, cosa spinge lei, la sua famiglia, perché siete una famiglia ad andare avanti, anche con tante soddisfazioni che sono state prese negli anni, ormai 30 anni credo che glielo dicano più o meno, anche quella famosa volta in cui la sua azienda comparì nel cult, il ciclone, insomma fu un crocevia importante, perché comunque si valorizzò il territorio in quel film, ma anche la vostra azienda. E cosa spinge, appunto dopo oltre 100 anni? Abbiamo solo 30 secondi. C'è tutto la passione, la storia, la voglia di esserci e comunque abbiamo investimenti che vorremmo in qualche modo valorizzare, che se no ci rischiamo di perdere, quello è stato il frutto di una vita che ci ha concesso. Oltre al nostro settore abbiamo investito anche il settore analogico, anche dal punto di vista turistico, credo abbiamo fatto il nostro. Non vorremmo perdere tutto, non per mancanza di volontà, ma perché proprio mancanza di possibilità ambientale, economica, non so come chiamarla. Noi ce la mettiamo tutta. Ultima cosa, solo per far capire ai telespettatori, ovviamente molti non hanno contesa di quello che è un mezzo, un autobus da 52 posti classico. Ad oggi quanto può costare IVA compresa? Sì, super, IVA compresa siamo sui 350 mila euro, una posizione standard, senza tanto lusso. Tanti accessori, tanti lusso, quindi fa capire l'investimento, poi tutta la manutenzione di gasolio e quant'altro. Grazie a Walter Fabri per essere stato con noi, presidente di Confartigianato Toscana, bus operator per questo settore di nicchia, ma che davvero ha accompagnato molte fasi della nostra vita, gite a scuola e non solo. Sono queste persone in questo settore che hanno fatto questa storia e che adesso sono in difficoltà per tutte quelle questioni di cui abbiamo parlato questa sera. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi per l'intervento.